buongiorno a tutti buongiorno a tutte oggi sabato 2 settembre ore 11 e 04 attento che state collegati e penso all'indovinello del giorno perché sapete che io parto sempre ieri con un indovinello e l'hanno beccato stati bravissimi a beccarlo allora io ne ho uno difficilissimo questa mattina in attesa di dei primi collegati vi lancio l'indovinello no che cos'è che cos'è chi la fa la vende chi la compra non la usa chi la usa non lo sa che cos'è attendo i primi collegati attendo i primi collegati intanto mi dici che mi confermi che siamo online mici perfetto allora chi la fa la vende chi la compra non la usa chi la usa non lo sa che cos'è amici vi do il buongiorno e buon sabato mattina a tutti ore 11 e 05 mi sono svegliato tardi perché ho fatto serata ieri sera con la mia dolce a metà la genna serata musicale adesso sono pronto con le notizie e parto con questo primo che è che ha indovinato attenzione lolli lor è stata la più veloce è la bara bravissima anche pino l'ha indovinato ragazzi bravo non è la bomba non è la bomba però anche la bomba ma ne ci poteva stare l'indovinello della mattina era questo chi la fa la vende chi la compra non la usa chi la usa non lo sa che cos'è signori la bara perché dico la bara perché sulle bare amici perché questo indovinello direte sei pazza robinò perché purtroppo sulle bare tra virgolette ovvero sul disastro che c'è stato fanno hanno iniziato a fare una cosa molto triste i nostri politici una polemica politica in particolare la sinistra sta letteralmente deragliando sui morti del treno e andiamo proprio per questo a leggere le prime pagine dei giornali partendo da amici partendo da perdonatemi il giornale eccoci qua il giornale titola così in prima pagina aspettate che do una zoomata eccoci qua così si dovrebbe essere inquadrato bene attacchi politici la sinistra deraglia sui morti del treno io dico purtroppo purtroppo perché è veramente triste come cosa l'opposizione i sindacati approfittano della tragedia ferroviaria per attaccare il governo dicendo colpa dei tagli al pnrr sotto accusa i due superstiti gravi violazioni della sicurezza io però a questo punto una domanda una domanda al di là dell'indovinello una domanda la pongo a tutti è possibile che la sinistra si accorga dei lavoratori solo se muoiono è possibile che i sindacati si accorgano dei lavoratori solo dopo una strage non dovrebbero teoricamente i sindacati tutti quegli organi di sinistra che fanno parte della sinistra italiana aver aver fatto qualcosa prima non avrebbero dovuto aver fatto qualcosa prima quando in verità non hanno fatto niente quando sono anni che lavoriamo in insicurezza più totale sottopagati e mo tac si svegliano quindi concordo assolutamente nell'articolo nella prima pagina del giornale sotto accusi due superstiti parlano di violazione della sicurezza si sa che c'è una violazione della sicurezza ed è molto grave ma la posizione sindacati ne parlano a livello politico cosa veramente triste perché non c'entra nulla la politica in questo caso o meglio c'entra la politica ma è una colpa di tutti una colpa di tutti quei politici tutti quei partiti tutti quegli esponenti e le dirigenti tutti quei sindacati che fino ad oggi e continueranno a farlo purtroppo non hanno fatto nulla per difendere i lavoratori vabbè tristezza più totale comunque e sopra il giornale dice da caivano a napoli a firenze le zone franche d'italia evitate anche dalle procure purtroppo in italia è una cosa conosciuta da tutti abbiamo delle zone che sono diventate dei veri e propri bronx bronx italiani e purtroppo cambiamo quotidiano vediamo libero libero gli abusi della sinistra scomunica rossa al prete che parla con la menoni scomunica rossa al prete che parla con la menoni cosa vuol dire amici guardate la pagina perdonatemi non vi sto facendo vedere la pagina scomunica rossa al prete che cosa mi ha aperto eccoci qua il parroco di caivano costretto a difendersi dai tanti attacchi dei compagni inferociti non dovevi invitare il premier in città cosa vuol dire cioè è il premier è la premier andrà dove le pare senza bisogno di dover chiedere permesso a dei compagnotti locali con tutto rispetto giovedì 31 agosto si è avuta l'impressione che la politica per un giorno avesse deciso di rinunciare a gruffolare nelle polemiche più squalide però purtroppo il pd non ce l'ha fatta veramente veramente triste intanto il mio cane abbaia perché quando parlo di pd quando dico l'avete notato quando dico la parola pd amici è incredibile cioè quando dico pd mio cane abbaia non ho mai ogni dubbio è lecito ogni dubbio è lecito se parlo di pd mio cane abbaia non so il perché però ci sarà qualcosa forse perché tutte le volte quando parlo di pd mi sento un po arrabbiato allora un po arrabbiato perché fa qualcosina di giusto la fanno ogni tanto è tipo di mettersi cose così molto carine la fanno però andiamo a vedere il fatto quotidiano che dice invece cambiamo quotidiano fatto quotidiano buongiorno a tutti posso dare un saluto posso fare un saluto che anche se sono gli haters che dicono tu saluti per di tempo a salutare ma fate i cazzi voi se voglio salutare la gente ciao linolino ciao caro ciao stefania ciao cosimo buongiorno montes rosaria abbiamo giovanna becci si robbi perché non sono seccorge che esistono pellegrino olga buongiorno concordo dice pellegrino antonella merli la bara esatto era la bara ciao giampiero matti se possibile la sinistra no e fabio potenza l'italia al deraglio concordo con fabio assolutamente abbiamo candida ciao candida buongiorno anche a te giulia si tonda robbi come si fa che un treno non viene avvisato che c'è gente che lavora stendiamo un velo pietoso concordo con te non si fa non si fa sbagliato abbiamo baldo perlotti buona giornata anche a te pina davino lucarsini la gnocca non era la gnocca luca luca lo so che pensi sempre la gnocca se sei fuori moda sei fuori moda ormai non gli uomini non pensano più alla gnocca cioè quello che vogliono i pidini che gli uomini pensano agli uomini e le donne le donne avete capito non bisogna pensare un uomo che pensa alla gnocca sei fuori moda assolutamente sei nel 1980 nel 1980 si pensava alla gnocca tutto il tempo ciao cosimo ciao massimiliano buongiorno a tutti ok torniamo alle notizie e vediamo che dicono gli altri quotidiani siamo al fatto quotidiano e ho interrotto col fatto quotidiano che ha molti lettori anche quando parlo di fatto quotidiano io non so il mio cane a baio vabbè la strage indagati superstiti ma l'inchiesta si allarga rfi ecco il report segreto sui buchi nella sicurezza ma c'è poco da reportare delle cose segrete secondo voi domanda più che lecita per capire che l'italia c'è un'insicurezza totale sul lavoro che siamo messi da panico c'è bisogno di un report segreto o basta guardarsi intorno che abbiamo abbiamo i cantieri messi da panico abbiamo la gente che lavora in insicurezza più totale c'è bisogno di un report segreto fatto quotidiano con tutto il rispetto basta dire non c'è sicurezza sul lavoro l'italia siamo lo sbando più totale in tutto in tutto il purtroppo che ci facciamo ridere dietro delle volte delle volte anche compatire con lacrime per questi per queste stragi vabbè il report parla di report la stampa la stampa è durissima la stampa è durissima gli ho mandati a schiantarsi lo shock del tecnico delle ferrovie che ha autorizzato l'intervento credevo che il treno fosse già passato cosa lo dì credevo cazzo sia nel 2000 e 250 siamo nel futuro cazzo e abbiamo e mettono i microchip nella frutta per capirsi è matura e non riusciamo a capire se un treno è già passato o meno io queste cose non le accetto amici io queste cose non le accetto la grande presa per il culo e quindi uno shock prima pagina della stampa lo shock del tecnico che dice mi credevo che mi credevo che le banane fossero tonde vabbè andiamo a vedere il corriere della sera amici treno una catena di errori cosa ha provocato la morte di 5 perai è già molto che è già molto che alcuni quotidiani non in questo caso però che alcuni quotidiani non abbiano scritto treno disastro colpa della meloni potevano fare un titolo così certi giornali di sinistra la colpa della meloni si schianta treno in veste in veste operai potevano scrivere direttamente così visto che sono dato la loro credibilità giornalistica e in verità in verità ci sono andati quasi vicini poi repubblica tratta un tema completamente diverso questo è un bel articolo repubblica qua faccio complimenti repubblica perché ha trattato l'argomento ed è un argomento spinoso di qualche anno fa vi ricordate di ustica tutti ovviamente ecco la verità su ustica macron chiede scusa il 19 fu colpito da un missile francese che doveva uccidere gheddafi il leader libico sfuggì alla trappola della nato perché avvisato da craxi l'ex premier svela chi e perché occultuò le responsabilità sulla strage dopo 40 anni l'eliseo è chiamato a togliere l'onda che pesa l'onta perdonatemi che pesa su parigi attenzione clamoroso quindi è venuta fuori la verità su ustica colpa della francia colpa della francia avete capito la verità prima o poi viene sempre fuori e quando dico che ogni dubbio è lecito lo dico perché non lo dico per vendere delle magliette perché non le ho ancora prodotte c'è la micchi qua che si arrabbia vero micchi perché non le abbiamo ancora fatte quante ce ne chiedono duemila tremila maglie che ci hanno richiesto ma perché non me ne frega niente io voglio divulgare un messaggio però mi toccherà far stampare le maglie perché tutti le vogliono quindi arriveremo con le magliette con le magliette per chi le vuole e torniamo alle pagine guardiamo le ultime pagine andiamo attenzione siete pronti perché andiamo alla verità andiamo alla verità che parla di dalle moide dalle moide ve lo ricordo il baffetto ve lo ricordate no esclusivo un verbale segreto questa è la verità che tutti conoscete siete collegati pronti a condividere un verbale segreto smentisce il leader massimo d'alema brigava in affari con i facendieri della loggia l'ex premier negò l'incontro con amara e cala fiore per un business con gli uomini della presunta associazione un gheria ma casali amico di baffino ipm conferma i meeting imbarazzanti ecco la sua testimonianza attenzione è da leggere sotto invece abbiamo mille mail inguagliano biden impeachment più vicino o biden biden non solo trump ma anche biden nel casino impeachment negli stati uniti andremo a capire di più con una diretta dedicata sotto abbiamo l'emergenza covid non c'è più invece ma per i vaccini si va di corsa commissione unione europea l'ok con procedura accelerata come nel 2020 studio le iniezioni ai bimbi indeboliscono le difese immunitarie e io andrò a leggere anche questo studio e farò sicuramente qualcosa di dedicato vabbè abbiamo visto le pagine principali di oggi con questo io vi saluto dicendo questo che ogni dubbio è più che recito e la sinistra non speculi sui morti del treno per favore eviti di dare delle colpe che le colpe sono di tutti quando ammetteranno i nostri politici che quello che in italia va tutto male colpa di tutti non di una parte o dell'altra sarà un grande giorno qua mi dico l'intanto giulia si tonda robbi quella maglia come posso averla micchi rispondi a breve vi faremo sapere a breve vi faremo sapere siete amiche della redazione quindi detto questo dell'agenzia vi voglio bene ciao a tutti buona giornata ci sentiamo più tardi buongiorno a tutti